Allora, Donato Argentiero, un pomeriggio, quota 99, 99 prime vittorie, assoluti, qualche considerazione? E' un'emozione fanta, sono passati 11 anni, da quando iniziai nel 2003, appena feci 18 anni, giù a Controfiando, giù a Lecce, sembra rilevolo ma il mio primo giro me lo ricordo come se siamo usciti adesso da dentro la macchina, un ricordo e un'emozione forte. La ricordi, la macchina, che macchina era? Si, era un minicooper 2003. Ben 8 campionati viti da quel Controfiare 2003, ultima Gincana, la 99esca vittoria, Ostuni, qualche considerazione? E' un'emozione tanta e dopo 11 anni, dopo questi ottimi grandi risultati, si potrebbe sempre migliorare e accrescere. 11 anni di gioia, giri spettacolari, pubblico, divertito, ricordi qualche avversario? L'avversario, da quando ho iniziato, noi ho venuti abbastanza a pensare che come avversario ho avuto, diciamo, le persone che io seguivo da quando ero piccolo, da mio padre, che lui è del mio edolo, ho iniziato a lottare con lui, da Giannotti Luigi, diciamo, loro sono più storici, sono più esperti. Poi ho iniziato, diciamo, ho iniziato ad avere gli avversari quelli dell'Eneria, Giannotti Roberto, Tonis Andrea, Forso Pietro, Vinci Nichele, Vito Sgura, Massimo Rigorio, però ce ne è uno in particolare che da ben 8 anni sono io e lui e Marzio Matteo. Quindi, molti avversari. Hai aperto le finestrelle sul Rocco Argentino, l'attuale presidente del campionato Ginkan in Puglia, il tuo papà. Tempi, immaginate, anche lui è a cavolo tra gli anni 80 e 90, quanti considerazioni su di lui che per tutti noi è un eroe? Allora, avevo un'emozione perché io quando iniziai a girare volevo emulare lui perché no, quando sono venuta dentro da papà, quando partivo mio padre, io subito, mi do pure le persone. Speriamo che siamo riusciti a onorare quello che ha fatto lui. Allora, molte gare importantissime, abbiamo qui a letto che siamo alla 99esima vittoria. Qualche gara, percorso che ti è rimasto particolarmente impresso? Ce ne sono tantissime. Ogni gara è una storia a sé. Le vittorie a casa mia, a cede, il pubblico, le emozioni quelle sono, diciamo, pareggiate. Però vittorie che mi sono rimaste cede. Una cegna, cede 2004, l'assoluto, se non sbaglio, è già notto Roberto. Inizia a piove, io partivo alla migra, riusci a togliere l'assoluto con la migra sotto l'acqua, mentre lui l'aveva fatto con l'asciutto. Poi, quando ho ricevuto il primo assoluto, a San Michele, a San Gentino, nel 2005, con la 500. Cioè, da tanti anni che non si faceva il primo assoluto con la 500, sono riuscito a raggiungere questo quadro. Poi un'altra gara bella, che per me la ricorda molto piace per Matteo Marzio, un po' meno, perché? E questa è la gara di Villa Castelli. Condizioni climatiche e allucinanti. Partiamo con novembre, se non sbaglio. La mattina c'era 6, nebbiotina, uomido, asciugata. Parti Matteo, riusciamo a fare una match, più o meno tutte e due, con le condizioni quali. Parti, metto e fare subito. Doveva essere 10 e mezza, 11 di mattina. Poi, continuiamo a girare, non so tempo, non lo arrivai. Riuscì a battere, non la sera, all'oscuro, per 4, 5, 10. E fu una bella emozione, perché tutta la giornata, la stress, la tensione, per me stata una bella giornata. Bene, abbiamo parlato di tante macchine in particolare, ne ho citato la regina della classe A 500, prende le tue macchine preferite, qualche... Penso da mia preferita, quella è A 500 e A 500. Macchine sempre rosse, una grande storia. La più piacevole del pubblico, la più piacevole di tutti i piloti, quella che forse tutti gli amanti dei ginkani vorrebbero portare a me una volta. Il GT. Alfa Romeo, il GT. E' una macchina storica, quella l'ho portata a mio padre nel depoto nell'81. Sto passati lì, però ancora oggi stai lì e riusciamo a... Alla grande. Allora, 11 anni, indimiticabile, molte vittorie. Ricordi qualche episodio? Intanto ti ricordo io, carta da mano, che il peggior piazzamento è un secondo assoluto. Quindi, tempi da fare invidia ai migliori. Ricordi comunque qualche giornata un po' storta, qualche episodio? Quando non ho vinto sono riuscito a fare secondo, quindi è un ottimo risultato. Una cosa è certa, il mio più bel secondo è stata la mia prima gara. Sono riuscito a fare il secondo assoluto con la Nini. Tutti erano incredibili, diciamo, come questa arriva la prima gara e riusci a fare il secondo tempo. Alla mia seconda gara, avevo il miglior tempo, però c'era una penalità. Alla metà alzata e gara vinsi, diciamo, la gara. Momenti crisi ce ne sono stati, però io quello che ricordo, diciamo, più recentemente è stato... Ho vinto la gara, però a Ceglia l'anno scorso, col 112, a casa mia ero impegnato al massimo, mi sentivo che non ho vinto un giro forte. Arrivai a mettere in tira di metri dal fraguardo e rompe il motore. Sei a casa tua, stai facendo un gran giro. Rompere a... per pochi metri non è il top. Momenti critici sono stati nel 2007. Abbiamo avuto parecchi problemi meccanici con il cambio delle macchine che si rompevano spesso. Però se non avevamo un cattolo, ci avevamo una migra, quindi riuscivamo a portare il risultato a casa. Poi, quando non vengono, diciamo, il risultato migliore, dopo la gara, sempre riuscire a portare le macchine integre a casa. Già qua è una vittoria, poi se si vince, ben vengono. Ci sappiamo che l'elaboratore massimo di queste competizioni è proprio il tuo papà, Rocco Argentiero. Siamo a quota 99 vittorie, un ringraziamento speciale, ma anche a lui. Eh beh sì, se non ci sarebbe stato lui al mio fianco, sia come padre, sia come preparatore, sia come far ordine, stimoli, consigli, non penso staremo qui oggi a parlare, mi vengono gli occhi di voi. Quindi siamo al 99, successi complessivi, sappiamo che l'immediato futuro ti aspetta il dicempo, ma come ho detto in i futuri? Cosa ti aspetti? Non mollare mai. Io in questi anni penso di non aver mollato mai. E nonostante che sono abbastanza, in tutti questi anni ho la partenza, mi sento sempre col brivido che avevo la prima volta. Io penso che un giorno quando non proverò più quel brivido, forse sarà meglio smettere. Però ogni gara, ogni anno c'è sempre qualcosa da migliorare. Cioè pensare che si è arrivati al massimo, al limite, no, c'è sempre da migliorare. Poi sono contento che ci sono parecchi giovani che stanno crescendo, mio fratello Italo, Gio Studi, Andrea Daniele, parecchi ragazzi nuovi di quest'anno. Io dico loro di non mollare perché c'è tanto da fare, ci vuole tempo, non è facile, però non bisogna mollare mai. Pensa che io da quando ho cambiato la macchina, dalla mica, la 127, perché vive la 127 per riuscire a romparla? Diciamo, lì, dopo i due anni. Quindi non bisogna mai mollare, nonostante l'esperienza che sia. Ringraziamo quindi della traccia sera per questa breve e soprattutto emozionante intervista. Abbiamo ripercorso questi 11 anni di stupendi, partendo da quella Mini Cooper nel 2003, arrivando all'ultima gara vinta qui a Postuni 2014. Molti avversari, abbiamo parlato del grande Rocco. Un ringraziamento ultimo, puoi fare? A tutti, a tutti i miei avversari, se non ci sarebbero stati loro, se non ci sarebbero arrivati a questo livello. Grazie mille, durante ci vediamo alla centesima vittoria. Abbiamo concluso questa intervista, grande emozione anche per me, un grande saluto, ci vediamo presto dal vostro Giacomo Argentiano.